Italo è l'esclusiva serie di apparecchi AIC progettata per un'illuminazione di tipo funzionale e di arredo urbano. Disponibile in più versioni, la serie nasce per illuminare strade urbane ed extraurbane, parchi, piazze e centri cittadini. Dal design unico e compatto, la serie Italo risponde alle esigenze delle più moderne smart cities. Con la serie Italo, AIC apre nuovi spazi all'illuminazione outdoor, promuovendo l'eccellenza del disegno attraverso una sofisticata ricerca sulle forme, in grado di mettere in risalto la qualità dei materiali utilizzati. Punto d'incontro tra funzionalità e design, Italo 1 si ispira alle più recenti tendenze del disegno contemporaneo, prediligendo linee capaci di rievocare il mondo dei prodotti high-tech. Dotato di attacco disponibile in due taglie per installazione testa-palo e su braccio, l'apparecchio può essere facilmente inclinato. L'attacco e la parte femmina del sezionatore sono fissati al telaio per facilitare le operazioni di installazione. Le guarnizioni di chiusura del telaio e del vetro vengono depositate in una sede dedicata. Lo schermo, in vetro piano temperato, è serigrafato e ad elevata trasparenza. La copertura, incernierata nella parte posteriore con un fermo in acciaio inox, funge da dissipatore e ospita il gruppo ottico, il vano cablaggio e la parte maschio del sezionatore. Il dispositivo di cerniera a compasso è dotato di blocco automatico per evitare la chiusura accidentale della copertura. Un gancio anteriore in alluminio trafilato permette l'apertura dell'apparecchio senza utilizzo di utensili. Il dissipatore di tipo lamellare permette una dispersione del calore ideale. La base inclinata e la geometria delle alette consentono di drenare l'eventuale accumulo di solidi o liquidi depositati tra le lamelle. Il cablaggio è fissato alla copertura ed è alloggiato su piastra facilmente rimovibile. Due connettori collegano il gruppo ottico e la linea di alimentazione. Al fine di ottimizzare i requisiti prestazionali e di affidabilità, Italo 1 è dotato di dispositivo di protezione contro le sovratensioni. L'alimentatore elettronico vanta un'elevata efficienza e durata, in quanto protetto termicamente contro il cortocircuito e contro i sovraccarichi. L'offerta di sistemi di regolazione del flusso permette una notevole riduzione dei consumi e un conseguente abbattimento dei costi. In aggiunta ai profili standard, AEC è in grado di offrire ai propri utenti un'ampia scelta di sistemi di controllo. L'apparecchio è inoltre predisposto per fotocellula M20 o NEMA socket o antenna di comunicazione wireless montata su copertura. Italo 1 è equipaggiato di Comfort Light Optic. È il sistema ottico progettato da AEC in grado di garantire una notevole riduzione dell'abbagliamento, mantenendo nel tempo le qualità fotometriche della sorgente e migliorando percezione e comfort visivo. Il gruppo ottico è rimovibile e realizzato in unica piastra. Le eccellenti caratteristiche qualitative dei componenti garantiscono un efficace smaltimento termico e un ottimo isolamento elettrico. L'ottica è resistente agli UV, all'umidità e alle elevate temperature ed è sostenuta ed isolata elettricamente da un telaio plastico. Le elevate prestazioni fotometriche di Italo 1 e la gestione dell'emissione luminosa sono garantiti dalla vasta gamma di ottiche di tipo stradale in grado di adattarsi alle più diverse geometrie di installazione e fondi stradali. Grazie ai moduli ottici sostituibili a fine vita, la serie Italo è garantita future proof. Funzionalità, eccellente resa cromatica, efficienza energetica, tutta la serie Italo dà un'identità ai migliori progetti di luce. Italo, semplicemente perfetto.